Il paradiso delle signore lunedì 27 aprile 2020. Salvatore continua ad essere sempre più convinto che Gabriella sia la donna della sua vita. Il ragazzo dice a tutti che è ancora molto innamorato di quella che era la sua fidanzata e allora prova tutte le tecniche possibili per corteggiarla. Decide infatti di lasciare un biglietto in atelier affinché lei possa vederlo ed eventualmente recarsi all'appuntamento. Agnese però riesce a intercettare il biglietto e a farlo sparire. Riccardo conferma la sua decisione di voler convolare a nozze con Ludovica per prendersi le sue responsabilità e occuparsi del figlio che aspettano. L'uomo però non ha assolutamente dimenticato Angela e decide di compiere per lei un ultimo atto d'amore, ossia provare a farle incontrare il suo figlio Matteo. Il Guarnieri Junior fa il possibile per organizzare questo incontro. Lidia Barone tiene un discorso molto appassionato al paradiso dato che anche lei è stata un'ex partigiana. Tutti i presenti vengono catturati da questo discorso, anche Marta e Vittorio. I due però notano qualcosa di strano, una donna con una neonata in braccio. Grazie. Grazie.